Il fatto nuovo e clamoroso di ieri è che l'ex ministro dell'istruzione Berlinguer ha detto che se non si attua la parità, non si attua la Costituzione. La libertà di scelta è un fatto costituzionale. Questo è un passaggio fondamentale nella storia recente politica, perché significa che la battaglia per la parità non è dei cattolici, ma di tutti. Il più autorevole ministro della pubblica istruzione del dopoguerra, che ha fatto la legge sulla parità e l'istruzione di origine comunista, si batte per la parità. A questo punto c'è da chiedersi chi si oppone. Certo, chi si oppone, chi pensa di essere del nuovo, invece è vecchio bacucco, è qualcuno che appartiene all'altra epoca, è qualcuno che passa come statalismo l'attacco ai poveri e l'attacco alla qualità. Ognuno di noi deve prendere posizione e decidere di attuare questa rivoluzione pacifica e silenziosa che porterebbe l'Italia a una migliore scuola e quindi a un migliore sviluppo. Chi è contro è un uomo del passato.